Per massimo rispetto alla massima istituzione elettiva cittadina non intendo fare anticipazioni e non intendo quindi confermare quello che in maniera del tutto sporadica esce sulla stampa e sui media. La giunta verrà presentata in occasione del primo consiglio comunale che sarà il 22 che per decoro istituzionale questa volta viene effettuato nell'auditorio Migliarezzo Fieri Congressi. Il primo cittadino non si sbilancia e non conferma al momento nulla ma comunque il cerchio attorno alla squadra di governo sembrerebbe essersi già chiuso con nomi e deleghe assegnate. Quattro donne e quattro uomini affiancheranno così il sindaco che terrà le deleghe a cultura, polizia municipale, affari generali, affari legali e comunicazione. Il vice sindaco invece dovrebbe essere Lucia Tanti che assumerà l'incarico mantenendo comunque le deleghe del precedente mandato amministrativo, sanità, sociale, scuola e famiglia. L'uomo chiave della nuova squadra di governo sarà indubbiamente Alessandro Casi, segretario comunale della Lega e neoassessore ad opere pubbliche, manutenzione e trasporti. A questo poi si aggiungerebbe anche la delega, frazioni e periferie. Per la Lega, uscita dalle urne come primo partito della coalizione, entrerebbe in giunta anche Monica Manneschi che si dovrebbe occupare di politiche per la casa, innovazione tecnologica e semplificazione. Fratelli d'Italia porterebbe invece nel governo cittadino due donne, Giovanna Carlettini e Francesca Luccherini. Per la prima sarebbero pronte le deleghe a personale pari opportunità integrazione alle quali poi si aggiunge un nuovo compito, quello dei diritti degli animali. Per Francesca Luccherini invece ci sarebbe una deleghe importante, quella all'urbanistica e assetto del territorio. Altri due gli assessori della lista civica, ora Ghinelli 20-25, oltre a Lucia Tanti, Simone Chierici, al quale Alessandro Ghinelli avrebbe assegnato le deleghe al turismo, grandi eventi, fiera, comparto orafo e partecipate. Forza Italia esprime un assessorato e sarebbe pronto Federico Scapecchi, che si occuperà di sport e politiche giovanili. Le riconferme infine sarebbero i tecnici che Alessandro Ghinelli vuole con sé anche nel secondo mandato, Marco Sacchetti all'ambiente ed Alberto Merelli al bilancio. La giunta dunque sarebbe fatta, resta invece da definire la casella della presidenza del Consiglio Comunale. Si saprà di più comunque il prossimo giovedì, giorno di insediamento del parlamentino. Il Consiglio Comunale si svolgerà in via del tutto straordinaria all'interno del Lauritorium della Rezzo Fiere Congressi di Via Spallanzani. Anche perché dovendosi poi procedere all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, all'elezione dei componenti e dei presidenti delle commissioni, necessita una votazione segreta che non è possibile ottenere attraverso gli usuali portali che utilizziamo per le sedute da remoto. Ci vediamo al centro affari, sarà l'unico consiglio, finché non sarà finita l'emergenza, che faremo in presenza. Gli spazi consentono di farlo e lo faremo perché va presentata la giunta, il sindaco fa il giuramento, quindi diciamo che è un momento abbastanza solemne.